Una domanda, vado al soto, ci può dare qualche informazione sull'organigramma e sui quadri tecnici della società? Dirigenza, allenatore o roba del genere, abbiamo già qualche idea? Non abbiamo niente di ufficiale ancora. Molta sempre tutti i consigli, l'agri, l'anticipalamento, specialmente quando viene in prima delle due giorni. Stiamo lavorando, conferma che i funzionari, che il direttore sportivo è lavorato e sta lavorando da un'altra cosa. Stiamo lavorando molto bene. Va bene, grazie. La reufficienza dopo il primo giorno. Grazie.